Nasce a New York in quanto il padre Mario da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti e la madre aveva ivi raggiunto il marito. Nel 1976 debutta nel mondo della musica Incidendo, in duetto proprio con il padre, la canzone Miracolo e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio, da cui è stata tratta una sceneggiata omonima. Nel 1977 insieme al padre Mario, debutta in teatro con la sceneggiata Caro papà e nello stesso anno debutta con la sceneggiata Senza mamma e Senza padre. Nel 1978 debutta nel mondo cinematografico nella pellicola di Carlo Caiano intitolata Figlio mio, sono innocente, con il padre Mario, Dolores Palumbo, Pietro De Vito, Carlo Taranto, Gennarino Palumbo, Giuseppe Anatrelli e Graziella Marino. L'anno successivo gira un secondo film, intitolato Napoli Storia d'amore e di vendetta di Mario Bianchi con Paola Pitagora, Richard Harrison, Patrizio Oliva, Maria del Monte, Nunzio Gallo, Gianni Dei, Raimondo Salvetti e Maria Fiore. Nel 1979 interpreta da protagonista, insieme al padre Mario, la sceneggiata o convento. Nel 1980 egli debutta in Montevergine. Nel 1981 Sal debutta in teatro con il padre in A Mamma. Nel 1982 registra il primo album O Guappo Namurato. In It, il Guappo Innamorato, per l'etichetta la canzonetta Record, dove oltre a canzoni appartenenti al repertorio classico napoletano, incide gli inediti lettera Napoli e meglio K.O.S.A.I.E. In It, meglio che tu lo sappia. Di Alberto Sciotti e Tony Iglio. Nel 1983 è protagonista del film musicale Il motorino di Nini Grassia con il padre Mario Da Vinci. Ed Eleonora Vallone, Lino Crispo, Bianca Sollazzo, Nunzio Gallo, Mariangela Giordano e Aldo Bufilandi. Nello stesso anno debutta in teatro con il padre in Tanti auguri e in A Bambulella. Nel 1986 partecipa al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi nel film Troppo Forte, nel ruolo dello Scugnizzo Capua. Con gli anni, tralascia la recitazione per dedicarsi maggiormente alla musica. La prima esperienza in tal senso è l'incisione di due brani. Guaglione, scritta da Lanzetta e Senese. E Mannagge viva, ore. Scritta interamente da Senese. Pubblicato dalla canzonetta Record. Nel 1992 prende parte al concorso Canoro una voce per Sanremo all'interno del contenitore. Domenicale Domenica in contotto Cutugno e Alba Parietti. Nel 1994 partecipa alla seconda ed ultima edizione del Festival Italiano di Musica. Organizzato da Canale 5 e presentato da Mike Buongiorno per creare un'alternativa al Festival di Sanremo. Classificandosi al primo posto con la canzone Vera. Il brano trainante del suo primo album pubblicato dalla Ricordi. Salda Vinci. Nel 1995 canta in presenza di Papa Giovanni Paolo II nella Conca di Loreto. In diretta e in Eurovisione su Rai 1. La canzone in latino Salve Regina di Francesco Palmieri. Davanti a oltre 450,000 giovani presenti. Nello stesso anno pubblica il singolo Fai Come Vuoi. Nel 1996 il singolo Dimmi Come Fai anticipa l'uscita dell'album Un Po' di Noi. Nel frattempo Vera raccoglie un enorme successo in Sud America con il titolo Vida Mi Vida. Cantata dall'artista spagnolo Marcos Ilunes. E vende oltre 4 milioni di coppie in tutto il mondo. Nel 1998 passa la Emmy e incide l'album Solo. Nel 1999 incontra Roberto De Simone. Che gli affida la parte da protagonista dell'opera Buffa del Giovedì Santo. Segnandoli il ritorno in scena della rappresentazione. Vent'anni dopo il debutto con Peppe e Concetta Barra come protagonisti. La prima dello spettacolo si tenne il 12 gennaio 2000 al Teatro Metastasia di Prato. Seguita da una tournée nei teatri italiani durata due anni. Il 29 settembre dello stesso anno la MBO pubblica un cd singolo. Vorria salire in cielo. Tratto da un tema melodico di Roberto De Simone in napoletano arcaico del Settecento. Un gospel partenopeo con musica di sal da Vinci e Gianni Guarracino e un testo in italiano di Maurizio Morante. Sempre nel 2000 sal partecipa al programma televisivo Viva Napoli condotto da Mike Buongiorno e Vince con il brano Tu Sii una cosa grande il premio internazionale Video Italia come migliore interprete e artista più votato all'estero. Si segnala poi la collaborazione con il padre Mario Da Vinci e Gigi Sabani nell'album Simmoe. Napoli e Paisà, di cui cura la produzione artistica ed esecutiva e interviene localmente nei brani Chiove e Surriento di Ennamorate, è ancora l'incisione del brano Stelle di Natale insieme a tanti altri artisti per gli auguri di Natale. Nel 2002 esce in tiratura limitata il singolo Omarì, con testo e musica di Roberto De Simone, testi rap di Joel Eschawan e arrangiamenti di Raffaele Minale. Da marzo 2002 a febbraio 2007 torna a recitare e ricopre il ruolo del protagonista. Saverio, nel musical c'era una volta. Spugnizzi, scritto da Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Coreografie di Gino Landi, regia e scene di Bruno Garofalo. Il musical ha ricevuto importanti premi, tra i quali l'Oscar del Teatro 2003, riconoscimento attribuito dall'ETIente Teatrale Italiano. Quale miglior musical dell'anno, nel 2004 partecipa insieme a Lucio Dalla, Gigi D'Alessio e Gigi Finizio alla realizzazione di una canzone intitolata Napole, inserita poi nell'album Quanti amori di Gigi D'Alessio, e poi prende parte al concerto per Napoli Legale, ideato da Teresa D'Alessio e Pierluigi Diaco, in cui canta ieri, accomunato da una banda ad hoc per l'occasione di cui fa parte anche il batterista Franco del Prete, e, a città e Pulecenella, insieme a Raits. Per le stagioni teatrali 2005-2006 e 2006-2007 prende parte al progetto musicale teatrale e anime, napoletane, ideato e prodotto da Claudio e Tullio Mattone per la Napoli Teatro. Nello spettacolo canta brani napoletani rivisitati in chiave moderna, alternandosi ad interventi recitati di Pietro Pignatelli. Contemporaneamente allo spettacolo esce anche l'omonimo album, che contiene 14 classici napoletani antichi e moderni. Nel 2005 scrive con Gigi Finizio e Marco Fasano i due brani per Averti e a Modo Mio. Contenuti nell'album per Averti, nel 2006 avvia una collaborazione professionale con il comico Alessandro Siani, per il quale compone e canta la colonna sonora del suo film Ti lascia perché ti amo troppo. La canzone principale della colonna sonora è Accominciamo e Respira. Scritta con Gennaro della Volpe. Reitz, nello stesso anno partecipa in qualità di ospite al programma di Siani Fiesta, in cui canta diversi brani, tra cui Amalatia, LL, America e a Città e Pulecenella insieme a Ciccio Merolla e Duetta con i ragazzi di Scampia nel loro primo album. Nel brano Passione, nel 2008 esce il singolo Namuratè scritto con Vincenzo D'Agostino e facente parte dell'album. Canto per amore, l'album è abbinato allo spettacolo teatrale in scena dal 6 novembre 2008 al 15 marzo 2009. Per la reggia di Gino Landi curatore anche delle coreografie. Nello stesso anno partecipa al Varietà del Sabato Sera Volami nel cuore condotto da Pupo ed Ernesto Schinella. Come cantante fisso, nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare. Scritta con Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio e si classifica al terzo posto con il 17.11% dei voti da casa. In contemporanea esce l'omonimo album che comprende sette brani. Oltre al brano di Sanremo, si segnalano aria di dolore e da lontano. Estratta come secondo singolo, scritta in coppia con Gigi D'Alessio. È in due, scritta interamente da Sal Da Vinci. L'album si classifica al 19esimo posto della classifica Fimi e viene promosso dall'omonimo tour estivo. Che da aprile si prolunga fino ad ottobre e lo vede esibirsi il 5 giugno all'Arena Flegrea. Nello stesso periodo partecipa anche al nuovo album Duende di Antonio Rocco e Marianna Corrado. E poi verso la fine dell'anno prende parte al tributo a Mario Musella. In cui canta Catarì, Marzo, insieme a Tony Esposito e poi Un'ora sola ti vorrei insieme a tutti gli altri artisti. Il 19 marzo del 2010 esce il suo disco Il Mercante di Stelle. L'album è formato dagli inediti Il Mercante di Stelle. Scritto con Depsa, Orologio Senza Tempo. Scritto con Vincenzo D'Agostino, E Fama Vedè. Scritto interamente da lui. Brani arrangiati da Adriano Pennino e da sette classici della canzone italiana internazionale. Quest'ultimi arrangiati da Maurizio Bosnia. L'album raggiunge il ventesimo posto nella classifica fini e viene utilizzato per trainare lo spettacolo. Teatrale Io più voi noi. Replicato fino ai primi mesi del 2012. Degne di nota sono anche la collaborazione con IMR. Ide, Ludo Brusco e Rudy Brass. All'interno del loro album 10. Con i quali duetta in Fai Come Vuoi. È la partecipazione all'undicesimo festival della nuova canzone siciliana con il brano su Non ci fussi. Stumari scritta a quattro mani con Vincenzo Spampinato. Il 27 maggio 2011 prende parte, insieme ad altri colleghi, al concerto tenutosi nella piazza del plebiscito di Napoli. A favore dell'elezione del candidato del PDL Gianni Lettieri a sindaco della città. Sempre nel maggio del 2011 partecipa come protagonista all'interno dello spettacolo musicale in due. Atti Napoli. Chi resta e chi parte di Giuseppe Patroni Griffi. Tratto da caffè di notte e giorno e scalo marittimo di Raffaele Viviani. Con la reggia di Armando Pugliese e gli arrangiamenti di Adriano Pennino. In tale spettacolo, dove collabora con artisti come Gigio Morra, Lalla Esposito, Lello Radice, Fiorenza Calogero, il cantante e attore a modo di vestire i panni di sei diversi personaggi e di cantare canzoni di Viviani tra cui l'Emigrante o Coro degli Emigranti. Il 2012 segna il ritorno sulle scene musicali dell'artista. Difatti dal 23 marzo in rotazione radiofonica al singolo Fin dove c'è vita. Chi anticipa l'uscita del nuovo album di inediti è così che gira il mondo. Nei negozi dal 24 aprile. Distribuito da Sony Music, album ricco di partecipazioni, vede la produzione artistica del maestro Adriano Pennino. Già con Giorgia, Ornella Vanoni e Gigi D'Alessio. E le musiche dello stesso Salda Vinci. I brani sono firmati da autori degni di nota come Vincenzo Incens. O, già con Renato Zero, Michele Zarrillo e Antonello Venditti. Pasquale Panella, Già con Lucio Battisti e Riccardo Cocciante. Nonché traduttore e adattatore dei testi di Notre Dame de Paris. E Federico Salvatore. L'album si avvale di collaborazioni prestigiose. Tra cui Maurizio Solieri, Anna Carolina, Ornella Vanoni, Michael Landau e Eric Daniel. Gli altri singoli estratti dall'album. Che debutta al dodicesimo posto nella classifica Fimi. Sono cose. Cantata con Anna Carolina. Così naturale. Senza un motivo. Cantata con Ornella Vanoni. E anche se non ci sei. Nella primavera del 2013 esce il nuovo singolo. Musica leggera. Scritto da Sale Vincenzo Incenzo e arrangiato da Enrico Palmosi. Dall'ottobre del 2013 al febbraio del 2014 è in scena con il musical ascritto da Federico Vacalebre. Nel musical Carosone, l'americano di Napoli, in cui veste il ruolo di Renato Carosone. Recitando, ballando e cantando diversi cavalli di battaglia del grande artista. Assieme a lui collaborano anche Lello Radice, Gianni Imparato, Pietro Botte, Claudia Letizia e Gransta MSV. Gli arrangiamenti sono curati da Lorenzo Engeler. Dal 22 al 29 settembre partecipa alla quinta edizione della Crociera della musica napoletana. Il 21 settembre 2013 partecipa alla festa di San Gennaro organizzata a Napoli. Dove viene ospitato insieme a Liliana De Curtis, Clementino, Mario Trevi e Maria Mazza. Ricevendo un premio alla carriera. Nel marzo del 2014 esce il nuovo album Se Amore è, che si avvale delle collaborazioni di Luca Sala, Celso Valli, Valentina D'Agostino, Enrico Palmosi, Clementino, Anna Carolina, Gigi D'Alessio, Saverio Grandi e Gaetano Curreri. Da questo album, che raggiunge il dodicesimo posto della classifica Fimi, vengono estratti i singoli La vera bellezza. Perdona, chiamo te, brano sul tema del femminicidio cantato con Clementino. Nel dicembre del 2014 debutta al teatro Augusteo con Stelle a metà. Musical le cui canzoni sono scritte da Sal in collaborazione con Alessandro Siani. Quest'ultimo autore anche del testo teatrale. Mentre le coreografie sono di Luca Tommassini e gli arrangiamenti di Pino Perris. In tale musical prendono parte anche Stefania De Francesco, Pasquale Palma, Gianni Parisi e molti giovani artisti. Arturo Caccavale, Andrea Sannino, Mario Andrisani, Antonio Rocco, Diego Laurenti, Carmela Pedata, Francesco Da Vinci, Letizia Vitaliano, Ermigna Francese, Giovanni Quaranta, Miriam Rigione, Piera Russo. Lo spettacolo ha un grande successo. Difatti al debutto segue un intero mese di repliche con sold out all'Augusteo. Poi varie date al Politeama di Napoli e al Gesualdo di Avellino nel gennaio e febbraio del 2015. Lo spettacolo viene riproposto in varie date in luglio e agosto del 2015. Castel Sant'Elmo di Napoli. Belvedere di San Leucio di Caserta. Arena del Mare di Salerno. Arena Virgilio di Gaeta. Teatro dei Templi di Paestum. È replicato nella primavera del 2016. Due date al Teatro Lendi di Sant'Arpino. Otto al Teatro Augusteo di Napoli. Due al Teatro Time di Bari e due al Teatro Sistina di Roma. Il 19 agosto 2015 si esibisce in concerto a Sapri. Alla settima edizione di Sapri anni 60. Partecipa alla manifestazione con Mario Trevi, Gianluca Capozzi, Pupo, Fausto Leali, Toni Tammaro, Iditelo voi e Massimo Ranieri. Non mancano diverse esperienze in ambito cinematografico. Come compositore di colonne sonore e come attore. Nel 2015 incide per il film Si accettano miracoli il brano Tu. Stella mia. Scritto da lui in coppia con Alessandro Siani. Nello stesso anno realizza la colonna sonora del film con Il bene di sempre. Nel 2016 recita nel ruolo di Don Sal all'interno del film Vita. Cuore. Battito degli Arteteca.